Entra nel mondo l'olato, da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantarie e calzature su misura. Ben trovati al meteo. Cessa definitivamente l'afflusso di aria fredda con l'alta pressione in ulteriore consolidamento sull'Italia. Ma vediamo il dettaglio di giovedì 24 marzo. Sul Veneto la giornata trascorrerà all'insegna del bel tempo. Come vediamo ancora niente piogge sulla nostra regione rimasta a secco praticamente per tutto l'inverno. Il cielo si presenterà sereno o al massimo velato. Temperature gradevoli, minime tra 1 e 6 gradi, valori massimi compresi invece tra i 18 e i 22 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso cielo sereno e sgombro da nubi. Sulla costa soffierà avrezza anche sostenuta. Forte escursione termica giornaliera in pianura e a fondo valle. Temperature minime tra 4 e 7 gradi, massime sui 18 e 22 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino, Alto Adige. Anche qui sarà molto soleggiato, con cielo terzo e limpido. Nessuna precipitazione. Temperature minime intorno ai 5 e 6 gradi, massime sui 21 e 22 all'incirca. Dal Meteo per ora è tutto. Vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. Atreviso e Montebelluna. Lolato. Soluzioni per star bene. Grazie. Grazie.